Dopo la pausa per le vacanze di fine anno, riaccenderanno la prossima settimana i motori delle ruspe a Licata per demolire altri immobili abusivi già acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. Sono da abbattere sei villini all'interno della fascia a vincolo di inedificabilità assoluta che ricade nei 150 metri dalla battigia. Le ingiunzioni alle demolizioni sono già state notificate dal Dipartimento Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Licata agli ex proprietari di immobili costruiti senza licenza edilizia e senza la possibilità di sanare gli abusi. Gli immobili da abbattere sono stati costruiti negli anni nella costa ricatese, anche nel perimetro che rientra nei 150 metri dalla battigia dove vige il vincolo più assoluto di edificare la maggior parte dei manufatti che verranno demoliti dal Consorzio Compat di Roma che ha vinto la terza gara indetta dal Comune, si trova nella zona della Rocca ma ce ne sono altre al Pisciotto, a Torre di Gaffa e alla Playa. Ai proprietari è stato assegnato un termine per poter demolire autonomamente quanto realizzato senza autorizzazione. Se non lo faranno di propria e spontanea volontà a questo punto saranno azionate le ruspe della ditta Compat e successivamente saranno addebitate le spese per le demolizioni agli stessi ex proprietari. Alcuni ex proprietari hanno già ricevuto l'ok della Procura della Repubblica degrigente dall'ufficio tecnico del Comune ad abbattere autonomamente risparmiando così sulla spese di demolizione che sarebbero state loro addebitate in caso di intervento delle ruspe comunali. La normativa prevede infatti che oltre a demolire villini abusivi il Comune si impossesserà del terreno in cui verranno messi in pristino i luoghi e inoltre saranno applicate a carico degli ex proprietari sanzioni che vanno da 4.000 a 20.000 euro. Nonostante l'azione in contrasto all'abusivismo con le ruspe c'è chi ancora continua a costruire senza concessione edilizia a Licata con la speranza di farla franca e non incappare nei controlli della Polizia Municipale. Nel mese di dicembre scorso sono state tre le ordinanze di demolizione firmate dal responsabile del Servizio Territorio Ambiente. Riguardano alcuni fabbricati che sarebbero stati costruiti, secondo l'ufficio, in assenza di concessione edilizia o indiformità rispetto al progetto rilasciato dall'ente.